Il titolo del disco è CIP col punto esclamativo, molto importante, un po' per dare simmetria al titolo, un po' perché mi piaceva che questo titolo fosse un titolo sonoro, cioè che non fosse collegato alla trasmissione di un concetto ma di un suono, perché è il disco in cui credo di aver avuto più intenzioni di trasmettere un sentire più che un pensare. Di al di là dell'amore posso dire, come ho detto già, che si tratta sicuramente di un canto etico, etico e poetico, ovviamente mi piaceva l'assonanza perché nasceva proprio da un momento di rammarico e anche a volte da un momento di... ti dici cose che forse non si vorresti neanche dire, cioè sulla necessità di un'etica. Per due che come noi inevitabilmente nasce dal fatto che ha una relazione di lunghissima data, ha un sapore che nasce dall'idea di voler rappresentare, come in realtà quasi in tutto il disco, anche la bellezza dello stare insieme di fianco, quindi uno a fianco all'altro, quindi non solo l'amore del bacio, dell'abbraccio, dell'amplesso, ma anche l'amore di due persone che stanno una accanto all'altra e quindi anche della lealtà, dell'affetto, che sono comunque del prendersi cura, della difficoltà di stringere i denti per tenere in piedi le cose. Mi sembrava che fosse un tema bello perché secondo me vale per la coppia, ma vale anche nel rapporto che tu hai con gli altri esseri umani, questa cosa è qui. Il live è stato un pensiero nella realizzazione di questi band, ma lo è sempre stato. Quando impacchetto le cose con la band, visto che abbiamo la stessa band da tantissimi anni, suoniamo da anni insieme, è inevitabile che quasi venga fuori nell'arrangiamento, perché suoniamo all'inizio tutti insieme, venga fuori un'espressione che è già un live.